Buongiorno e benvenuti all'Andreatta Lecture 2021. È la prima volta che organizziamo questo evento a dicembre, in genere l'abbiamo sempre fatto tra marzo e aprile, però quest'anno speravamo che potessero cambiare un po' le regole per poter essere qui in presenza e poterci vedere tutti insieme. Abbiamo fatto bene a rischiare, perché almeno finalmente c'è un'occasione per incontrarci. Ci sono molti ex studenti, molti studenti del corso annuale di quest'anno, amici della scuola di politica e amici dell'AREL. Quindi la maggior parte di voi sanno il motivo per cui noi facciamo l'Andreatta Lecture, perché la scuola di politica nasce in seno all'AREL, da un'iniziativa dell'AREL ed è con loro che abbiamo organizzato ogni anno quest'incontro in memoria di Nino Andreatta, perché la scuola di politica è dedicata a Nino Andreatta. Negli anni abbiamo organizzato appunto con l'AREL questi eventi, utilizzando, proponendo le presentazioni di volumi o riviste dedicate alla figura di Nino Andreatta, che Maria Antonietta Colimberti, che è la direttrice della rivista e delle pubblicazioni dell'AREL, che l'ha sempre curato con dovizia, quindi raccontando la figura di Andreatta come politico, economista e come convinto europeista. Dall'altra parte abbiamo cercato di portare i protagonisti del nostro tempo e che in qualche modo ispirati ai valori di Andreatta, per cui i motivi per cui è sempre stato ricordato, quindi per le sue competenze scientifiche, il suo rigore etico e per la sua attività istituzionale. Noi tra il passato e il presente, attraverso appunto gli oratori che abbiamo avuto modo in questi anni di ascoltare, abbiamo sempre cercato di lasciare agli studenti appunto il bagaglio di passato e presente per formare poi, quello che dice il nostro claim, formare il futuro in qualche modo. Quindi negli anni ci hanno accompagnato, abbiamo avuto appunto, come dicevo, persone molto importanti che ci hanno onorato, insomma, in occasione di questo incontro, come Romano Prodi, Giuliano Amato, Carlo Cottarelli, Massimo Tononi, Lucrezia Reiklin. E quest'anno abbiamo il piacere di poter ascoltare, soprattutto per i ragazzi, un'occasione per dibattere con il commissario europeo all'economia, Paolo Gentiloni, che ringrazio chiaramente per la sua presenza qui. I ragazzi della scuola di politica vengono da tutta Italia e molti di loro hanno preso un treno oggi per questo incontro, per cui io lascio direttamente la parola ad Antonio Nicita, che è il presidente della scuola, ringrazio anche lui, che è appena insediato, che introdurrà e modererà l'incontro. Non tolgo altro tempo. Vai Antonio, grazie. Grazie. Sono molto onorato, diciamo, di iniziare questa mia attività come presidente della scuola presentando oggi Paolo Gentiloni, il commissario Gentiloni, il presidente Gentiloni, per me anche l'amico perché l'ho conosciuto tanto tempo fa e poi vi spiegherò perché quel tipo, diciamo, di esperienza oggi è così importante, sia per me che soprattutto per quello che sta facendo in Europa in una certa direzione. Però è anche importante l'Andreatta Lecture e il rapporto che questa iniziativa ha in relazione all'Europa. Sono due questioni assolutamente non separabili. Nino Andreatta è stato un grande intellettuale, innanzitutto io dico spesso un intellettuale regalato alla politica, non prestato alla politica perché è stato un regalo che ha fatto all'Italia la politica di quegli anni in un momento molto particolare. Segnalo alcune cose che poi sono rimaste nella storia di questo Paese. la vicenda che riguarda il famoso divorzio fra Tesoro e Banca d'Italia, tutta la costruzione teorica sull'autonomia della politica monetaria e la costruzione che di lì in poi ha portato al rigore delle politiche economiche e all'aggancio con l'Europa. Non sono questioni separate, non sono questioni nazionali, sono condizioni che poi trovano uno sbocco e una prospettiva. E se voi vedete la storia politica di Nino Andreatta in relazione all'Europa troverete poi proprio un filo conduttore straordinario, una visione, una speranza e devo dire che le diverse pubblicazioni che l'Arel dedicato proprio al pensiero di Andreatta le trovate online, le trovate anche in queste bellissime pubblicazioni curate da Maria Antonietta Colimberti e Ricolette e da altri e trovate una attualità del discorso europeo che è straordinaria nella visione che aveva Nino Andreatta. Io ringrazio Tini Andreatta per essere qui, la famiglia e anche l'aiuto che ha dato anche Filippo e che danno altri nell'aiutarci non solo a ricordare questa figura ma a mettere nella prospettiva storica e di futuro. Sulla questione dell'Europa, di nuovo il profilo istituzionale di come si costruisce l'Europa, la necessità di superare gli egoismi nazionali e in particolare di superare la trappola del consenso delle politiche nazionali per costruire una politica europea. A me ha colpito moltissimo, rileggendo alcune questioni per l'incontro di oggi, tre temi che ho trovato qui e tre frasi particolari. Una riguarda la forza dell'Europa rispetto ai nazionalismi dell'Est e quindi l'idea in quel caso di pensare all'allargamento europeo come una risposta ai crescenti nazionalismi che stavano emergendo dopo la caduta del muro di Berlino. E però là si dice attenzione che non basta l'aggancio europeo per evitare la fuga dei nazionalismi, c'è bisogno di portare più Europa lì. Ed è esattamente uno dei punti che sta tornando di attualità. Un secondo pezzo molto importante che mi ha colpito riguarda gli immigrati. E c'è un articolo, pensate, del 1984, laddove si dice noi non vogliamo, ve lo cito perché mi è molto piaciuto, dice io credo che il nostro paese debba prendere coscienza di essere diventato un paese di sbarco degli stranieri e che ci sia un interesse nazionale affinché questo avvenga. Ma non va lasciato allo spontaneismo, cioè non va lasciato, come dire, ad una questione casuale ma va costruito con politiche di nuovo agganciate all'Europa. L'altro tema, in prospettiva, è quello che riguarda proprio la capacità dell'Europa di diventare non soltanto un luogo di costruzione di interessi economici ma di nuova cittadinanza. Ecco, tutte queste questioni hanno un'attualità straordinaria e mi fa piacere che si possano poi sposare con l'esperienza e il racconto che ci farà oggi Paolo Gentiloni da ultimo, da commissario europeo. Paolo Gentiloni ha una storia molto ricca di esperienze nella quale, quindi mi ricollego a quello che vi dicevo prima, ci sono due cose che oggi sono al cuore della vicenda europea. La sua esperienza, che è iniziata e culminata da Ministro delle Comunicazioni in questo Paese, sulla centralità del digitale come strumento anche di inclusione sociale. E l'altra questione, che ho accompagnato forse da prima, e cioè l'attenzione alla questione ambientale come questione intergenerazionale. Quindi non semplicemente come tutela del bene ambientale per la generazione attuale che ne può subire gli effetti, ma la prospettiva intergenerazionale che poi è quella dei mutamenti climatici, dei quali noi oggi vediamo degli effetti, ma che soprattutto riguardano, per la questione della persistenza in atmosfera di certe sostanze clima alteranti, le generazioni future. Beh, queste sono le due gambe che strutturano, come sapete, tutta la politica della nuova Commissione, stando nel strategic foresight della Presidente von der Leyen, dei suoi discorsi, sono le due gambe principali su cui viene costruito il famoso PNRR, i piani di recovery e resilienza. Sono argomenti su cui il portafoglio del commissario Gentiloni è ricco, tra questi vi sono la revisione degli obiettivi e degli indicatori dei cosiddetti Sasson e Goals, che sono strettamente connessi evidentemente a questi piani, ma c'è anche, quindi, tutta la questione ambientale e digitali assieme. Qui, diciamo, mi fa piacere ricordare un successo, che naturalmente è dell'Europa, ma su cui ha lavorato tantissimo il commissario Gentiloni, cioè la questione di costruire finalmente, in una fatica che ha coinvolto il G20, che ha coinvolto l'Ocse, che ha coinvolto tanti paesi, l'idea che ci possa essere una tassazione sulle transazioni digitali, in un contesto globale in quali grandi player nazionali fanno una specie di taxation shopping e non riescono a restituire poi ai paesi in cui generano un certo valore una parte del valore che hanno generato. Questa è una grandissima battaglia, difficilissima, perché come quelli ambientali ha bisogno del coordinamento internazionale, ma possiamo dire che siamo su una strada molto avanzata e io, senza piageria, devo dire che il commissario Gentiloni ha svolto un ruolo storico in questo, questa sarà una delle tappe per cui noi ricorderemo questo passaggio europeo. L'altro pezzo, e concludo, riguarda il PNRR, riguarda la possibilità di costruire, dopo la pandemia, quindi una situazione di fragilità dei paesi, dei criteri, come dire, più strategici, usiamo questa parola, su tutti i temi patti di stabilità, rientro, politiche di rientro dei debiti e prospettive di realizzazione di investimenti efficaci in termini di moltiplicatori di crescita, di inclusione sociale e occupazionale, perché tu hai anche la questione della revisione, diciamo così, degli indicatori sull'inclusione occupazionale. Ecco, questo è una disoccupazione. Ecco, queste qui sono delle questioni centrali che sono in mano, in particolare a Paolo Gentiloni, e che rappresentano una sfida straordinaria, soprattutto per l'Italia, che come sapete è il paese che non è solo più fragile sotto un profilo di debito, ma anche quello che per esempio sulla parte PNRR ha fruito di più, diciamo così, della parte, diciamo, di indebitamento e che quindi poi deve per forza collocarsi in una prospettiva legata alla stabilità, al patto di stabilità, al modo in cui ridisegniamo quel patto antico in un contesto però di selezione produttiva degli investimenti. Ecco, questo è un passaggio delicatissimo. C'è una novità importante che deriva dalla Germania, cioè da quanto hanno scritto in questo nuovo patto di governo coloro che l'hanno avviato su questa tematica. Ecco, però queste sono questioni fondamentali dell'Europa e per l'Italia e diciamo noi dobbiamo essere orgogliosi e onorati del fatto che una persona come Paolo Gentiloni se ne occupa non in quanto italiano ma in quanto una persona che ha dimostrato capacità, equilibrio e lungimiranza istituzionale per poter collocare questi temi in una giusta prospettiva. Io finisco qui, vi dico soltanto che ringraziando innanzitutto anche il Presidente e il Direttore Brai per averci offerto questa sala, lui purtroppo oggi non può essere qui con noi ma è un amico della scuola, noi facciamo sempre tantissime iniziative con l'Istituto Treccani ma finisco dicendo che noi adesso ascolteremo quello che il Commissario ci vorrà dire poi sarò felice di raccogliere vostre domande, vostre precisazioni per un tempo diciamo limitato perché poi bisogna andare via però ecco, voi man mano che ascoltate alcune questioni diciamo pensate a delle domande perché poi gli aspetti più importanti della nostra scuola sono questi, sono non soltanto le testimonianze ma la capacità di avviare un dialogo e di discutere insieme. Quindi ringrazio ancora Paolo Gentiloni e gli lascio la parola. Grazie. Grazie Antonio, grazie per le tue parole grazie alla scuola di politiche a Enrico che mi ha ingaggiato Enrico Letta che mi ha ingaggiato si dice spesso è un onore ma per me è veramente un onore poter intervenire qui nel nome di Nino Andreatta penso che direi la mia generazione deve molto a Nino Andreatta sia da un punto di vista strettamente politico per certi versi il rapporto tra Andreatta e Prodi quanto fu importante per la nascita dell'Ulivo o comunque dell'idea che portò poi alla nascita dell'Ulivo sia per la qualità del suo ruolo politico in sé noi abbiamo attraversato un periodo e ci siamo ancora dentro anche se ovviamente combattiamo contro questa idea nel quale sembrava che si dovesse affermare l'idea che i competenti non fanno politica e i politici non sono competenti che ovviamente è un'idea sbagliata in questo sempre e quindi è sbagliata oggi era sbagliata ieri ma certamente figure come quella di Nino Andreatta ti danno questo dal punto di vista storico ormai questo messaggio della possibilità di avere un incrocio tra qualità istituzionale responsabilità politica lungimiranza europeista e competenza economica naturalmente quindi per questo per me è veramente un onore essere qui e ragionare su alcuni dei temi di cui mi occupo che in parte sono stati affrontati tra l'altro da Andreatta con grande con grande lungimiranza essendo stato Andreatta un convinto europeista io ho qualche qualche frase che mi ha colpito una che è del 1978 quando si discuteva della creazione dello SME qualcuno forse no quasi nessuno se lo ricorda ma qualcuno forse se lo ricorda sistema monetario europeo e Andreatta 1978 sosteneva potrebbe essere suggestiva una riforma monetaria che introduca immediatamente in sostituzione delle monete nazionali una moneta europea il cui valore e il cui volume sia determinato da una riserva federale europea e 78 diciamo che 15-20 anni dopo si è deciso di fare la moneta unica europea e credo che sia il 4 gennaio o il 3 gennaio di quest'anno il ventesimo anniversario dell'introduzione fisica della moneta unica quanto alla riserva federale europea in un certo senso c'è perché è la BCE e per altri versi c'è molta strada ancora ancora da fare e in quell'occasione Andreatta avvertiva che aumentare il volume delle risorse della comunità si chiamava comunità all'epoca e distribuire in maniera più corretta il suo finanziamento dei suoi interventi tra gli stati membri è una condizione di successo anche dell'unione monetaria quindi quell'orizzonte indicato più di 40 anni fa ha fatto passi avanti straordinari in questi due anni attraversando questa questa crisi drammatica della della pandemia e ricordiamoci sempre che noi siamo arrivati come Unione Europea alla pandemia in una condizione non fortissima abbiamo avuto il decennio precedente gli anni dieci un decennio molto difficile per l'Unione Europea addirittura attraversato a un certo punto da una sorta di tempesta perfetta in cui se pensate alla metà degli anni dieci si incrociavano da un lato le conseguenze ancora della crisi finanziaria che era una crisi nata negli Stati Uniti e nata alla fine del decennio precedente ma che in Europa ancora nel 2014 2015 aveva la crisi greca nel suo culmine contemporaneamente abbiamo avuto in quegli anni la fase più acuta della crisi determinata dai flussi migratori e dalle conseguenze politiche dei flussi migratori abbiamo avuto Brexit in quegli anni e tutto questo è stato all'origine di una spinta che abbiamo chiamato sovranista ognuno poi la chiama come preferisce che al fondo echeggiando messaggi che sono venuti anche da oltreatlantico tra il 2016 e il 2020 alla sua radice c'era fortemente un contenuto anti progetto europeo poi c'erano molte differenze molte ragioni molte spinte ma nel cuore c'era un messaggio fortemente anti europeo e questa tempesta perfetta ha prodotto danni notevoli e uno che rimarrà che appunto è l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea sulla base di una campagna che se ve la ricordate la campagna del Brexit era molto fondata sui temi migratori addirittura sul rischio di un'invasione turca di migrati turchi nel Regno Unito quindi l'Europa è arrivata alla pandemia in un contesto in cui il decennio precedente aveva visto una spinta non certamente favorevole un vento non favorevole dell'Unione Europea e in condizioni economiche non brillantissime ogni tanto quando sento dire in questi mesi dobbiamo tornare alla situazione normale delle nostre economie ricordo sempre che quella situazione non era l'età dell'oro e molti economisti hanno definito quella fase dell'economia europea come una fase di low for long bassa inflazione bassa crescita bassi tassi di interesse per molto molto tempo qualcuno sintetizzando parlava di giapponesizzazione dell'economia europea e contemporaneamente a questa giapponesizzazione se così vogliamo dire procedeva una divergenza tra i diversi paesi europei se noi facciamo 100 il PIL dell'eurozona al 2010 vediamo che nel 2019 cioè alla fine di quel decennio il PIL dell'eurozona da 100 è andato a 112 quello della Germania da 100 a 117 quello della Francia da 100 a 113 quello della Grecia da 100 a 85 e quello dell'Italia da 100 a 100 quindi in 10 anni sostanzialmente l'Italia è cresciuta non è cresciuta in modo sostanziale e analoghe differenze adesso senza farla troppo lunga ma come sapete bene si sono accentuate in quel decennio sia in termini di debito pubblico tra i diversi paesi e sia in termini di disoccupazione abbiamo la Spagna più di altri ma la stessa Italia a livelli di disoccupazione la distanza tra il 15 della Spagna e il 3 3 e mezzo di paesi come la Germania e l'Olanda è una distanza che in un'area che condivide la stessa moneta e quindi ha una politica monetaria comune è molto complicata quindi la pandemia poteva far esplodere queste divergenze e poteva colpire molto fortemente queste economie con tassi di crescita piuttosto limitati perché poi non ho citato il dato americano ma se prendete lo stesso arco di tempo dal dal 10 al 19 l'economia americana è passata da 100 a 122 quindi nettamente più alta anche dei paesi europei che hanno avuto dei livelli di crescita relativamente maggiori questa crisi drammatica certamente c'è stata abbiamo avuto non solo le conseguenze sanitarie ma anche le conseguenze di recessione che conosciamo tuttavia se pensiamo a qual era il mood le previsioni le impressioni che si avevano in quel periodo beh insomma noi tutto sommato ci aspettavamo un'ondata di fallimenti di imprese un'ondata di licenziamenti di massa di decine di milioni di persone e a posteriori dopo un anno e mezzo due anni credo possiamo dire che la reazione sia delle istituzioni comunitarie sia dei singoli governi nazionali ha reso possibile di attenuare l'impatto di questa crisi e senza altro di non avere delle conseguenze così drammatiche abbiamo avuto meno fallimenti nel 2020 che non nei 7-8 anni precedenti ma semplicemente perché gli stati hanno messo sul tavolo per esempio garanzie pubbliche di 3.200 miliardi di euro che poi sono state grazie alla sospensione degli aiuti di stato decisa dalla commissione sono state poi attivate queste garanzie in modo relativo non in modo così massiccio ma comunque erano sul tavolo quindi direi possiamo essere orgogliosi di questa risposta europea e tuttavia il diciamo la costruzione istituzionale in sé dell'unione quella che Jacques Delors chiama una costruzione zoppicante fa sì che questi risultati non sono non sono mai acquisiti del tutto perché insomma con una politica monetaria comune e politiche di bilancio politiche economiche distinte tra stato e stato è chiaro che bisogna lavorare molto per evitare scompensi penso che siamo riusciti almeno a evitare il fatto che questa crisi che in gergo si dice simmetrica che avrebbe potuto avere effetti asimmetrici e cioè avrebbe potuto aumentare quelle differenze che prima ricordavo siamo riusciti a gestirla sia nel senso di evitare delle conseguenze così drammatiche come avrebbero potuto essere più drammatiche di quanto lo siano state parlo di economia naturalmente non delle conseguenze sanitarie che più che drammatiche sono state e anche siamo riusciti a evitare che questa crisi aumentasse quelle differenze anzi oggi se guardate al ranking di crescita dei diversi paesi europei vi accorgete che grosso modo ci sono delle eccezioni ma i paesi che hanno avuto che sono stati colpiti di più da questa crisi sono i paesi che crescono di più e tra questi l'Italia e quindi c'è un effetto riequilibratore che deriva in parte da un fatto meccanico più vai giù e più però siccome stiamo parlando anche di prospettive e previsioni 2022 2023 c'è il fatto che gli strumenti messi in campo dalla Unione Europea sono stati degli strumenti che avevano chiaro un obiettivo di riequilibrio il primo come sapete era a sostegno di schemi di cassa integrazione simili meccanismo che si che si chiama sure che è stato impressionante nella velocità per quanto riguarda i ritmi normali di Bruxelles è stato deciso a fine aprile del del 2020 e praticamente nel giro di un mese è stato approvato sono state fatte emissioni di titoli comuni di debito per finanziarlo sono stati distribuiti questi 100 miliardi ai 19 paesi che pur trattandosi solo di prestiti lo consideravano uno strumento utile e sono stati spesi quindi 100 miliardi decisi distribuiti e spesi in un anno una cosa che è obiettivamente possibile grazie al fatto che eravamo in condizioni straordinarie e che c'era un tiraggio formidabile di questi strumenti tipo cassa integrazione e poi c'è stata l'operazione più ovviamente più importante più strategica quella di quelli degli 800 ai valori attuali sono diventati 800 miliardi a prezzi correnti non attribuiti in parti uguali ai diversi paesi ma attribuiti con un effetto appunto riequilibratore basati su debito comune e con attaccate chiaramente delle condizionalità e delle priorità europee e l'operazione Next Generation EU va ricordata credo per tutti questi aspetti per il fatto che è riequilibratrice per il fatto che si basa su famosi euro bond di titoli di debito comuni e per il fatto che è condizionata al raggiungimento di alcuni obiettivi e all'indicazione di alcune priorità non è incondizionata si è parlato quando abbiamo deciso questo Next Generation EU di un momento hamiltoniano frase del cancelliere entrante Olaf Scholz riferimento al primo a George Hamilton che fece la prima tesoreria comune negli Stati Uniti salvo poi morire in un duello quindi ci sono sempre contraddizioni nei richiami e prima di diventare presidente era candidato presidente ma e momento mi pare che Charles Michel l'ha chiamato momento rubiconiano qualcun altro copernichiano io dico un tanto lavoriamoci perché è un'operazione molto complicata fin qui ed è un'operazione che coinvolge l'Italia molto da vicino fin qui noi abbiamo approvato 22 dei 27 piani abbiamo distribuito 52 miliardi di prefinanziamento perché all'atto dell'approvazione viene dato il 13% dell'ammontare totale in prefinanziamento pensate che di questi 52 miliardi di prefinanziamento 25 sono andati all'Italia per avere un'idea di quanto il piano italiano sia importante per il successo di quello europeo e contemporaneamente la commissione fin qui nel 2021 ha emesso titoli di debito e ha raccolto sui mercati 160 miliardi di titoli comuni e questo fa della commissione europea uno dei due o tre principali titolari di euro bond di bond denominati in euro scusate in Europa nel senso alla pari con paesi come l'Italia la Francia o la Germania solo che questi sono comuni e il fatto che siano comuni naturalmente è un fatto straordinario che in un certo senso si riferisce se fosse permanente ma sappiamo che di per sé non lo è a quella questione che ricordavo prima di Nino Andreatta che collegava la moneta unica a una riserva quella che adesso in gergo si chiama safe facet comune europeo e tutto questo per l'Italia è una grande occasione ancora Andreatta scriveva 40 anni fa che l'Italia deve crescere più della media comunitaria se vuole ridurre le distanze con il resto d'Europa quindi il problema è antico quello di cui stiamo parlando del rischio di questa grande frammentazione grande divergenza e tuttavia sappiamo dai dati di crescita che abbiamo un'occasione per farlo in questo momento perché i dati di crescita per quest'anno l'anno prossimo il 2023 sono molto molto interessanti interessante che secondo le stime della commissione l'Italia cresca attorno al 2,5% nel 2023 e adesso siamo abituati a tutto un altro un altro clima ma in anni nei vent'anni scorsi una crescita del 2,2,5% sarebbe stata salutata con enorme soddisfazione l'Italia è chiaro che gioca che ha un ruolo fondamentale ha deciso di scommettere l'intera posta in questo piano e quindi quando vedete quelle percentuali 25 miliardi sui 52 derivano dal fatto che l'Italia è stata uno dei pochi paesi che ha deciso di utilizzare anche i prestiti in questa operazione europea e non perché i prestiti non siano convenienti per molti paesi prima parlavo di quella cosa che si chiama SURE quella cosa è stata usata da 19 paesi quindi ci sono 19 paesi in Europa per i quali la tripla A della commissione europea dà condizioni di finanziamento più favorevoli delle proprie 19 quanti sono i paesi che hanno invece deciso di usare i prestiti nei piani PNRR sono 5 perché sono molti di meno perché certamente questi fondi sono fondi mentre i fondi SURE erano i fondi che andavano a aggiungersi a degli schemi esistenti erano sostanzialmente un modo per risparmiare in termini finanziari l'Italia ha risparmiato quasi 4 miliardi nella differenza tra che tassi interesse abbiamo noi e che tassi interesse alla commissione quindi operazione di vantaggio economico 4 miliardi di nuovo è tanta roba io ogni tanto ricordo che la misura principale presa da un governo di cui facevo parte nel 2007 mi pare da Tommaso Padua Schioppa la riduzione del cuneo fiscale valeva 8 miliardi quindi noi solo con la differenza di tassi interesse di SURE abbiamo fatto metà di quella che fu all'epoca la misura economica principale del governo Prodi Bis adesso parliamo di miliardi come va bene detto questo è chiaro che questo giocarsi l'intera posta è una grande sfida ma soprattutto una grande opportunità per l'Italia perché l'entità di risorse disponibili è enorme ma dobbiamo anche sapere che questo ha introdotto nel nostro sistema una specie di voi ricorderete forse alcuni di voi che per molti anni si è parlato del rapporto con l'Europa come se fosse per l'Italia un vincolo esterno parole di Guido Carli noi in qualche modo con questo PNRR abbiamo internalizzato questo vincolo perché ci siamo messi in una prospettiva che non dura sei mesi ma che dura fino al 2026 in cui risorse molto ingenti sono legate al raggiungimento di obiettivi con tempi definiti in modo molto 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 dettagliato e questa quindi è contemporaneamente la sfida e l'opportunità perché un'opportunità perché insomma a noi non interessa in Europa in modo particolare poi in Italia semplicemente un rimbalzo se l'obiettivo fosse il rimbalzo noi al rimbalzo siamo abbastanza vicini l'Italia è caduta di quasi il 9 nel 2020 risale di più del 6 nel 21 a un certo punto dell'anno prossimo prima di metà anno arriva ai livelli di crescita pre-pandemia alcuni paesi europei ci stanno arrivando in queste settimane quindi il rimbalzo c'è o è già avvenuto o per altri paesi come l'Italia arriverà nei prossimi mesi ma noi non cerchiamo con questo next generation EU soltanto un rimbalzo tornare a una normalità che non era l'età del loro cerchiamo una crescita sostenibile e duratura se cerchiamo quella questa massa di quattrini e questo giocarsi l'intera posta ha un senso perché solo attraverso uno sforzo di quelle dimensioni possiamo possiamo credo arrivare a quell'obiettivo certo questo comporta anche un incremento di debito il debito è aumentato in tutti i paesi europei in questi due anni il debito medio nell'eurozona adesso è del 100% medio ed è molto lontano dai limiti previsti dai nostri trattati da dove nascono quei limiti non da qualche premio Nobel che ha scritto volumi fondamentali sul 60% ma dal fatto che all'epoca di Maastricht il 60% era la media del debito tra i 12 paesi firmatari dei trattati adesso la media è al 100% e quindi certamente dobbiamo avere in mente due cose primo dobbiamo lavorare per rendere le regole europee che sono necessarie di riduzione del debito realistiche graduali per evitare di o non applicarle o uccidere la crescita contemporaneamente non possiamo specie in paesi come l'Italia dimenticarci del problema del debito come se non esistesse più come se le condizioni diciamo straordinarie eccezionali che abbiamo vissuto in questi anni andassero avanti all'infinito e noi si potesse diciamo fare i conti con capacità di spese illimitate ora questa è la sfida che abbiamo davanti per raggiungere questi obiettivi io ripeto spesso serve un po' il senso di una missione nazionale vedo con piacere che si comincia a discuterne abbastanza anche sui nostri giornali ma continuo a vedere che c'è una diciamo molto spesso un'attenzione maggiore su sfide obiettivi cifre che sono completamente non paragonabili a questa posta in gioco e su queste si concentra ogni tanto l'attenzione pubblica mentre penso che il governo stia lavorando con grande determinazione il Parlamento ha sempre sostenuto il governo in questo sforzo ma nella discussione pubblica è fondamentale che tutti gli attori gli attori sociali il mondo dell'informazione i protagonisti della nostra classe dirigente abbiano in mente che questa è la sfida non è che abbiamo altri modi per colmare i ritardi e così via e la risposta data ha limitato i rischi possiamo esserne orgogliosi ma questa costruzione europea per essere meno zoppicante ha bisogno di fare e concludo ulteriori passi avanti perché il mondo è complicato e in Europa si sta bene ci abbiamo perfino un commissario alla european way of life perché effettivamente c'è una european way of life che funziona se guardate se guardate al pacchettone di stimolo deciso proposto dal presidente Biden e deciso in buona parte dal dal congresso vedete delle venature europee in questo pacchetto c'è molto welfare in quella in questa operazione ma al tempo stesso nel 94 Andreatta ammoniva a non accomodarsi in un'Europa confortevole come una vecchia pantofola e effettivamente questa Europa pur avendo fatto delle cose egregie qui abbiamo parlato di economia ma potremmo citare cose egregie sulla sanità fatte a livello dell'Unione europea non può accontentarsi non può ridurre l'ambizione perché diciamo quelle fragilità di fondo e quei rischi di cui gli anni dieci sono stati i testimoni sono sempre presenti quindi l'ambizione deve continuare a essere il marchio della Commissione europea certamente in campo economico certamente nel campo della transizione climatica dove spesso l'Unione europea è accusata di essere troppo ambiziosa ma io penso che invece debba difendere questo ruolo di leadership e in almeno un altro paio di cose che voglio solo ricordare per non concentrarmi solo sulle cose economiche la prima è che il nostro processo decisionale avrebbe bisogno di qualche per essere molto diplomatici di qualche aggiornamento per esempio di una riduzione delle degli obblighi di unanimità non è facile ottenere questi risultati perché ci sono sempre di mezzo modifiche ai trattati e quindi la necessità di trovare consenso ma questo è uno dei problemi dell'Unione europea qual'equilibrio tra la necessaria unanimità le possibili cooperazioni rafforzate se si cerca sempre solo un'unanimità si rischia di andare lenti se si diventa un'unione di club diversi con cooperazioni rafforzate su temi diversi si rischia di incrinare il progetto e quindi forse ridurre quegli obblighi di unanimità sarebbe utile la seconda grande ambizione deve essere un'ambizione geopolitica perché anche questa Europa che qualcuno ha correttamente definito una superpotenza gentile non lo so se dice gentile diciamo in inglese quiet super power una superpotenza calma quieta gentile diciamo gentile e comunque non può essere si diceva della Germania molti 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 anni fa il gigante economico e nanopolitico adesso la Germania non è più un nanopolitico ma l'Unione Europea non può permettersi di essere assente dal punto di vista geopolitico e questa penso tra le mille perché si potrebbe parlare di temi migratori e di tante altre cose di transizione digitale però tra i mille passi avanti le mille ambizioni le due alle quali io non rinuncerei sono una ragioniamo sulla nostra architettura istituzionale e due dobbiamo rafforzare la nostra senza contraddire quella natura virgolette gentile dobbiamo rafforzare la nostra capacità di influenza geopolitica insomma la storia credo sia la storia di questi due anni conferma che il progetto europeo nato dopo i disastri della prima parte del novecento è un progetto di grande successo e di grandissime potenzialità le sue ragioni sono state confermate negli anni difficili di questa crisi ma dobbiamo sapere che devono essere sempre rimesse al centro dell'agenda difese alimentate con nuove ambizioni e questo penso sia molto nelle mani anche delle generazioni più giovani quindi mi fa molto piacere se avete delle domande di rispondere perché penso che poi alla fine voi possiate essere i protagonisti di questa stagione di nuove ambizioni di cui l'Unione Europea ha bisogno grazie grazie un intervento molto denso di spunti anche quest'ultima parte l'ultimissima parte di uno spunto coraggioso nel dibattito attuale sul tema diciamo delle architetture istituzionali sul tema della vocazione diciamo di una gentilezza rafforzata geopolitica e anche il tema come dire della capacità di accelerare in alcuni casi delle decisioni che hanno un processo come dire di formazione molto democratico molto complesso la Commissione Europea ha al proprio interno tutta una serie di meccanismi anche complessi diciamo così di discussione interna sulle singole proposte di politica quindi diciamo è un processo come dire a volte complicato che poi si inserisce nel trilogo per alcune iniziative quindi tra il Parlamento Europeo e il Consiglio che rappresenta i vari governi europei insomma un disegno attuale ma che ha una prospettiva molto interessante questi due ultimi punti che mi fanno tornare appunto al tema diciamo dell'attualità dell'Europa in un senso profondo nel senso che è attuale continuare a discutere di Europa è attuale continuare a discutere di come migliorare l'esperimento europeo e questo diciamo è in fondo un tema di arricchimento non di debolezza tantissimi spunti io mi riservo poi alla fine qualche domanda se c'è spazio però vi inviterei se c'è qualcuno che come dire vuole rompere il ghiaccio noi siamo qui prego io passo questo microfono quello lì va bene parliamo parlate un po' a distanza e poi lo li sanifichiamo se magari dite il vostro nome da dove venite salve sono Lorenzo Farruggio intanto la ringrazio per il suo intervento io studio medicina all'università cattolica del sacro cuore lei ci accennava al fatto che già Andrea Atta in qualche modo designava l'importanza di un tesoro comune europeo che lei chiaramente ci diceva già imparzialmente esiste ma va implementato allora nel maggio dell'anno scorso la corte costituzionale tedesca aveva sollevato come dire dei dubbi di natura di ultra vires per quanto riguarda il public sector fruit sales program quindi di potenziale deviazione dalla capital key diciamo queste pulsioni ciclicamente in Germania riemergono quindi la mia domanda è se a suo avviso il mandato dell'ABC andrebbe riformato e se qualora questo dovesse essere fatto se dovesse essere anche riformata la governance della stessa grazie prendiamo qualche domanda prendiamo un po' di domande alzate la mano vi prenotate buongiorno io mi chiamo Rosa Maria Torraco e sono una studentessa di giurisprudenza all'università di Bologna allora la mia domanda parte a partire appunto da uno spunto che ha proposto il professor Nicita dal momento che anche Andrea Atta vedeva sicuramente i nazionalismi come un grande ostacolo per quanto riguarda la questione dell'Unione Europea recentemente abbiamo visto anzi anche non proprio recentemente come ci sono stati dei cosiddetti regimi ibridi o democrazie liberali in particolar modo di Polonia ed Ungheria che hanno posto comunque degli ostacoli per quanto riguarda il processo di coesione dell'Unione Europea e da qui le volevo chiedere quali fossero le prospettive dal punto di vista del blocco all'accesso ai fondi dell'Unione Europea e le sanzioni economiche proprio per quanto riguarda questi paesi la ringrazio grazie c'era la dietro che facciamo un'altra tre oltre tre non arrivo allora un'altra e poi domande interessanti peraltro allora buongiorno io applico la regola che ci ha detto Enrico quindi ti darò del tu ecco che ci ha detto che qua alla scuola l'applicavo a se no sto scherzando è you inglese you inglese io sono Samuele Resmini e studio fisica a Pavia una curiosità abbiamo più volte citato in questo intervento quanto la differenza tra appunto paesi come l'Italia e la Germania in termini di crescita sia così forte da la tua esperienza di commissario appunto l'economia a Bruxelles quali sono gli aspetti per cui appunto l'Italia potrebbe migliorare e tornare ad essere competitiva con questi paesi quindi colmare questo gap che c'è con questi paesi così forti economicamente grazie dunque sì grazie ma rispetto alla prima domanda Lorenzo Università del Sacro Cuore io credo che la BCE abbia lavorato in un modo molto efficace in questa crisi una delle cose forse più importanti di questa crisi crisi è stato il diciamo così l'intreccio tra politica monetaria e politiche di bilancio e cioè la risposta nei fatti a quel problema di una Unione Europea nelle quali c'è la moneta unica ma non c'è una politica economica unica c'è un coordinamento delle politiche economiche che è diverso da avere un tesoro europeo eccetera in questo contesto noi abbiamo avuto durante questa crisi direi una straordinaria confluenza di intenti tra le politiche decise dalla Commissione Europea e le decisioni della BCE ed è stata un straordinario intreccio che non ha minimamente messo in discussione l'autonomia della BCE non è che c'era un luogo in cui superiore in cui si prendevano decisioni che investivano anche la politica monetaria la convergenza è nata dalla condivisione di obiettivi generali e Tommaso Padua Schioppa ricordava spesso che l'autonomia della BCE non deve significare solitudine della BCE quindi un incrocio che peraltro c'è sempre stato perché sapete che i i presidenti della BCE partecipano alle riunioni dei ministri dell'economia e partecipano alle riunioni dei primi ministri e dei capi di Stato però conservando l'autonomia sono andate le cose nella stessa direzione credo che il tema della supremazia giurisdizionale che attraversa tante questioni in Europa in diversi paesi e che ovviamente non è semplice sia stato chiarito dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo e che la questione sia chiara nelle intenzioni sia del governo tedesco che delle istituzioni europee quindi non vedo all'orizzonte conflitti da questo punto di vista anche se certamente il tema del rapporto tra la giurisdizione europea e le giurisdizioni nazionali non è mai risolto una volta per sempre però sono i principi fondamentali dei trattati e tra questi c'è la supremazia della giurisdizione della Corte europea i nazionalismi i nazionalismi attraversano tutto il panorama europeo ci sono lo sappiamo bene in Italia ma ci sono tanti altri paesi posizioni più o meno radicalmente anti-europee credo che per quanto riguarda in particolare alcuni paesi dell'Europa e l'Est si debba affrontare il tema in modo molto serio senza ideologismi senza crociate per quel che riguarda le sfide del presente noi abbiamo delle regole molto chiare per esempio in questo Next Generation EU e queste regole comportano che i piani nazionali vengono approvati nella misura in cui rispondono alle raccomandazioni che la Commissione ha rivolto nel 2019 ai diversi paesi quindi le negoziate che sono ancora in corso con alcuni paesi tra cui la Lungheria e la Polonia riguardano il fatto che la Commissione non per un suo vezzo ma perché così è stato stabilito dai capi di Stato e dal Parlamento europeo sulla base delle proposte della Commissione vuole che queste raccomandazioni siano contemplate nei piani nazionali eccetera e quindi la discussione continua sapete che la discussione investe anche altri aspetti più legati allo Stato di diritto e la Commissione non farà crociate ma difenderà anche in questo caso la supremazia della giurisdizione europea in questa materia fatemi aggiungere solo che accanto a questo e senza che le due cose debbano condizionarsi a vicenda noi dobbiamo anche fare un po' un bilancio a tanti anni di distanza di come vanno le cose in questa presenza di alcuni paesi dell'est nell'Unione europea è un tema io sono tra i sostenitori del fatto che noi dobbiamo entrare un po' di più in questa questione cercare di spiegarci un po' meglio perché nonostante tutto nonostante un miglioramento di condizioni economiche enorme da parte di questi paesi non parlo solo dei due che abbiamo citato prima ci sia comunque una certa delusione a 30 anni e più della caduta del muro di Berlino che è una delusione strisciante che non si traduce in anti-europeismo anzi se uno fa un sondaggio in Polonia il sostegno all'Unione europea è molto più forte di quanto non sia in Italia ma che si traduce in una certa diciamo così in un riaffiorare di posizioni minoritarie ma anti-europee e questo se guardate basta guardare ai flussi migratori interni all'Unione europea per darsi una delle possibili chiavi di spiegazione ci sono dei crolli demografici in alcuni di questi paesi da una parte una straordinaria crescita economica e dall'altra crollo demografico perché per quanto l'economia sia cresciuta suggerisco la lettura di un paio di libri interessanti se non l'avete già letti uno di un politologo bulgaro che si chiama Igor Krastev e uno di una giornalista polacco-americana che si chiama Ann Applebaum entrambi sono un po' sulla diciamo delusione nei paesi dell'est e indagano sulle motivazioni credo che sia interessante il ritardo italiano qui ci vorrebbe un'altra riunione perché sappiamo di fronte a una serie di problemi ricordiamoci sempre che l'Italia è un meraviglioso mix di grandissima forza competitività e arretratezze non diamo una lettura uniforme a questo gap perché ecco se guardiamo per esempio la manifattura la manifattura italiana in questo momento sta è quella che sta andando meglio di tutte in Europa numero uno sulla crescita i francesi crescono più dell'Italia ma comunque siamo tra i primi tre o quattro sulla manifattura siamo i primi e siamo i primi per ragioni di basta conoscerle molti di voi conoscono bene queste realtà per sapere quanto competitive sono soprattutto le nostre medie imprese eccetera abbiamo parlato molto in questi giorni dei rapporti d'Italia a Francia e giustamente qualcuno ha ricordato che la Francia ha un sistema di grandi imprese grandi banche che noi non abbiamo a quel livello ma pochi hanno ricordato che l'interscambio tra Italia e Francia è favorevole all'Italia interscambio commerciale e questo è frutto banalmente di questa realtà complessa è vero che non abbiamo giganti o ne abbiamo pochi nel mondo industriale e bancario ma è anche vero che un tessuto forte e dinamico come il nostro insomma forse c'è in alcune aree della Germania in Europa ma al di là di questo c'è solo in alcune aree del nostro paese quindi quali sono i ritardi i ritardi sappiamo sono in termini di generale si dice produttività qualsiasi economista europeo vi direbbe qual è il ritardo principale la produttività poi andando a vedere sappiamo che questo è legato alla dimensione delle imprese moltissimo per cui avendo noi un tessuto di imprese molto più piccole rispetto ad altre economie abbiamo inevitabilmente dei livelli però certamente la produttività che va incrementata certamente c'è il tema mezzogiorno c'è il tema innovazione nelle imprese dove pure però negli ultimi anni onestamente si sono fatti molti passi in avanti nell'incentivare l'innovazione la digitalizzazione e gli investimenti delle imprese c'è il tema della burocrazia c'è alla fine e forse più importante di tutti a mio avviso c'è il tema della valorizzazione del lavoro femminile e in conclusione dicevo forse più importante di tutti c'è il tema di tutto quel complesso di questioni che vanno dalla qualità dell'istruzione alla qualità della ricerca e dell'università alla qualità degli studi tecnici in rapporto alla domanda di lavoro alle cosiddette politiche attive del lavoro perché il punto su cui forse noi dobbiamo stare più attenti è esattamente questo cioè in un mondo in cui la competizione sarà sempre più sui livelli alti in Europa e in cui il rischio è che ci sia molta offerta di lavoro in certi fasce e minore offerta o comunque minore retribuzione del lavoro in fasce diverse e noi dobbiamo stare molto attenti perché non abbiamo una qualità sufficiente in questo momento dobbiamo guardare le statistiche dei nostri giovani che vanno all'estero ovviamente va benissimo io vorrei più giovani stranieri che venissero nelle nostre università e piano piano ci stiamo attrezzando però se penso alle politiche attive del lavoro questo è uno se dobbiamo parlare dei nostri gap di quelli a cui guarderei con maggiore attenzione nel PNRR ci sono molti miliardi su questa roba non non poche lire ma come li spenderemo in che direzione a quali soggetti importanti e prego andiamo avanti prego uno due tre qui e poi uno dietro la colonna che non vedo prego buongiorno sono Tommaso Gianni ex studente attualmente medico specializzando in geretria al Policlinico Gemelli commissario le faccio una domanda molto semplice che cosa la fa essere da comunque ex rappresentante di alte cariche istituzionali del nostro paese convinto che il nostro paese storicamente in difficoltà nello spendere i fondi europei possa essere in grado di spendere una mole di fondi molto maggiore con scadenze molto precise e molto brevi viste quelle che sono state appunto i nostri precedenti mettendo da parte la competenza e l'autorevolezza del presidente Draghi grazie grazie mentre passiamo il microfono a qualcun altro volevo sottolineare per Paolo Gentiloni la varietà dei nostri studenti ed ex studenti nel senso che come provenienza di percorso di studi io sono molto contento perché io insegno economia ma sono molto contento che abbiamo esperienze che vengono da studi per corsi diversi da scienze sociali ma anche diciamo così dalla medicina dall'ingegneria e così via perché rappresenta un po' anche quello che si diceva prima anche la complessità sulle competenze e anche sulle prospettive economiche le voleva parlare ma non c'è il microfono buongiorno eccolo eccola grazie io sono Giorgia Zarelli e studio scienze economiche a Bologna abbiamo visto come diciamo negli ultimi dieci anni è mutato un paradigma siamo passati da quelle politiche di stampo monetarista che sono poi con le crisi sostanzialmente come mito quasi tramontate a una politica monetaria basata sul controllo delle quantità quindi l'immissione molto forte all'interno del sistema economico di moneta delle politiche espansive fortissime e il tramontare di alcuni paradigmi fondamentali basti pensare che quello che era il rifinanziamento ordinario è diventato spesso rifinanziamento di lungo periodo il tasso su rifinanziamento unitario ordinario è sceso fino allo zero e addirittura i tassi overnight i tassi su depositi hanno infranto la barriera del tasso negativo quindi di fronte a questo e alle responsabilità che una situazione di questo tipo porta noi sappiamo che quasi una politica monetaria espansionistica di questo tipo con i tassi a zero non basta più o forse un giorno non basterà e allora parlando di ambizioni io mi chiedevo molti economisti ravvedono in questa situazione la necessità di cominciare ad immaginare nuove politiche economiche monetarie che lavorino in sinergia con le politiche fiscali secondo lei si tornerà al paradigma monetarista forse ormai quasi tramontato della stabilità del lungo periodo che ha i suoi problemi o si penserà a nuove politiche economiche monetarie per affrontare le sfide del domani grazie anche qui la terza e poi forse riusciamo a fare un ultimo perché avevo promesso per una che finiamo prego buongiorno io sono Marili Salemi e sono al primo anno di dottorato in scienze politiche all'università di Perugia e la mia domanda è molto breve è molto semplice lei prima ha parlato del ruolo europeo in materia di transizione ecologica e del ruolo di leadership appunto dell'Unione Europea mi chiedevo che cosa può fare l'Unione Europea per far sì che questo ruolo di leadership per portarlo diciamo a un livello più globale per far sì che non risulti più come ambizioso il ruolo dell'Unione Europea ma risulti possibile e reale per tutti gli altri paesi grazie sì grazie come spenderà l'Italia questi 190 miliardi che poi naturalmente si aggiungono ad alcune decine di miliardi dei normali fondi europei eccetera però io mi concentrerei in modo particolare su questi 190 e penso che il governo questo stia facendo perché hanno una natura molto particolare nel gergo della commissione noi diciamo che questi fondi sono performance based cioè non sono dei fondi che vengono erogati e poi i singoli paesi saranno capaci o non capaci di assorbirli e al termine dei cinque o sette anni si tireranno le fila dell'assorbimento o non assorbimento ma in questo caso i fondi arrivano nella misura in cui gli obiettivi vengono raggiunti e l'Italia ha 500 adesso non mi ricordo ma insomma questi da qui al 2026 un sacco di obiettivi da raggiungere perché l'Italia è particolarmente sfidata perché storicamente noi siamo tra i paesi noi e la Spagna che hanno più difficoltà nell'assorbire i fondi europei queste difficoltà sono in parte concentrate in Italia nel mezzogiorno dove sono concentrati anche molti dei fondi europei perché i fondi europei quelli tradizionali diciamo così sono cosiddetti quelli della coesione eccetera sono particolarmente indirizzati a regioni meno ricche io penso che il governo stia facendo le mosse fondamentali per affrontare questa questione rafforzare la pubblica amministrazione prendere le decisioni in Parlamento perché non dimentichiamo mai che ci sono gli investimenti ma ci sono anche le riforme in questi 500 bla 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 e che il gap il ritardo italiano deriva in parte dal fatto che bisogna fare delle opere delle innovazioni e degli investimenti legati al verde eccetera eccetera ma deriva anche dal fatto che ci vogliono delle riforme che rendano i processi più efficienti mi pare che il governo abbia avviato tutto il lavoro che si può fare per rendere possibile l'assorbimento di questi quattrini ripeto che è molto importante che ci sia una costante attenzione pubblica a questo pubblica dei giornali dei partiti dei parlamentari degli studenti perché sono un sacco di investimenti in università cioè è ci deve essere su questa cosa non la scoperta improvvisa che siamo in ritardo e quindi i soldi non arrivano ma una continua attenzione su come vanno le cose in costante contatto con i miei uffici a Bruxelles ma questo è costantemente in corso ma non un atteggiamento come ogni tanto abbiamo avuto che non è che io stessi da un'altra parte ma il Cipe quando il Cipe decide una cosa spesso l'assessore X fa un comunicato abbiamo finanziato quella strada quella cosa lì e questo è la fine della storia ecco se questo è l'atteggiamento non è questo io penso che il governo stia compiendo tutti i passi che sono necessari per rendere questa sfida possibile ma al governo deve associarsi un'attenzione costante di tutto il sistema perché la sfida è veramente complicata sono d'accordo assolutamente con quanto detto dalla studentessa di Bologna penso che cioè in sostanza che oggi i margini di azione delle politiche monetarie si sono molto ridotti perché non è che poi molti ci sono tassi negativi da parte di molti paesi e il lavoro tipico per dare spinta all'economia di abbassare i tassi interesse dal punto di vista della politica monetaria ha ormai dei margini molto ristretti sappiamo che c'è tutto un dibattito su quanto questa spinta inflazionistica che c'è in questo momento sarà duratura o meno un po' di spinta inflazionistica moderata aiuta a dare qualche margine in più alla politica monetaria ma senza dubbio e penso che questo che Mario Draghi ha cominciato a dire da anni e che Christine Lagarde dice in questi anni e cioè che con una politica monetaria che non ha enormi margini in questo contesto è fondamentale che ci sia una politica economica una politica di bilancio per favorire l'espansione e quindi che la Commissione Europea riesca a dare un giusto equilibrio tra la necessità di tenere d'occhio l'aumento del debito perché mai dobbiamo scordarci soprattutto per l'Italia questa questione e contemporaneamente conservare politiche espansive di supporto all'economia perché non può essere solo la politica monetaria a fare questo mestiere sul tema ambientale a parole la risposta è facile penso che l'Unione Europea debba avere una leadership stando un passo avanti al resto dei grandi attori globali ma non mille passi avanti perché poi alla fine l'Unione Europea è responsabile del 7-8% delle emissioni globali e quindi se la nostra fosse una fuga solitaria non avrebbe grande impatto sugli equilibri ambientali globali ma avrebbe un grande impatto sulla competitività delle nostre imprese e questo credo in sé sia facile da dire trovare questo giusto equilibrio è abbastanza sempre un grande sforzo naturalmente io penso però che io difendo il fatto che quando l'Unione Europea fa dei passi avanti in generale questo tende a tradursi nel fatto che tutto il gruppo poi fa dei passi avanti questo è capitato quando noi abbiamo preso l'impegno di neutralità climatica al 2050 nel giro di un anno qualcuno ha detto 2060 ma insomma altri hanno detto 2050 e c'è stato muoversi in quella direzione sono sicuro che noi abbiamo pubblicato alcuni mesi fa una tassonomia per gli investimenti verdi rivolta ai mercati finanziari e il fatto di averla proposta noi Commissione Europea ha fatto sì che adesso un po' tutti si stanno coordinando per cercare di andare in una direzione analoga per dare a questa enorme massa di quattrini che gira per il mondo in cerca di obiettivi da finanziare delle regole per dire che cosa è verde e che cosa non è verde e di recente noi abbiamo proposto questo scusate ma si chiama Carbon Border Adjustment Mechanism una roba cioè il festival degli acronimi e Sibam cioè un meccanismo di aggiustamento alle frontiere per quanto riguarda le emissioni di CO2 e il fatto stesso che l'Unione Europea abbia avanzato questa proposta fa sì che adesso si discute su come cercare di armonizzare senza aspettare una improbabile in termini rapidi istituzione di un carbon price globale come si riesca ad armonizzare diversi sistemi alla frontiera di controllo delle emissioni di CO2 per evitare di danneggiare le proprie imprese se vai troppo avanti nella transizione climatica e al tempo stesso per evitare conflitti tensioni commerciali quindi bisogna trovare questo giusto equilibrio ma senza rinunciare alla leadership dell'Unione Europea perché senza la leadership dell'Unione Europea what else cioè chi altro guida questo percorso a livello globale più difficile per gli Stati Uniti farlo anche se sono rientrati negli accordi di Parigi e altri che possano guidarlo francamente non ne vedono grazie allora noi siamo arrivati sostanzialmente alla fine quindi io proprio raccoglierei un'ultima domanda diciamo facciamo facciamo vedo due braccia alzate allora due domande brevissime tre brevissime partendo da lì sotto perché mi aveva alzato prima vabbè vai tu poi due poi tre e poi liberiamo il commissario che è stato gentilissimo a darci tutto questo tempo prego buongiorno commissario vorrei farle una domanda riprendendo quel concetto di costruzione zoppicante cui ha fatto riferimento nel suo intervento e vorrei chiederle se in un'ottica prospettica dal suo punto di vista non sia opportuno valutare anche il ricorso a strumenti gius pubblicistici come potrebbe essere quello di una costituzione europea e non soltanto strumenti di politica economica come quelli di cui abbiamo parlato oggi grazie diritto rules lì giù e poi chiediamo con la terza vai lui 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 grazie buongiorno commissario sono un ex alunno della scuola di politiche la mia domanda è sul ruolo dell'unione europea nella competizione tecnologica globale la pandemia ci ha dimostrato come alcune crisi come la crisi dei semiconduttori porti l'unione europea a passare dal just in time al just in case questo vuol dire che ci sarà anche un passaggio di un'Europa da regolatore che disegna il level playing field a una politica industriale europea grazie grazie io non vedo dietro la ecco scusate dietro le colonne io sono Lorenzo Ancona studente di scienze politiche e intanto voglio ringraziare il commissario Gentiloni per la lecture e poi volevo farle una domanda rispetto alle sue parole lei da quello che ha detto emerge come Next Generation EU sarà ed è già uno spartiacco una grossissima opportunità per l'Unione Europea in merito a questo oltre alla ripresa dalla pandemia come può essere un fattore anche dal punto di vista geopolitico di rafforzamento dell'Unione rispetto agli altri player internazionali e poi come possa andare anche a influire sulle modifiche che ci saranno al patto di stabilità forse sono due domande no appunto perché come si era per sono abitati effettivamente una domanda e una grazie vedo Matteo e poi lì c'è l'ultima è bastissima e poi salutiamo grazie no perché io passerei sempre la domanda buongiorno commissario sono Cristian Pergola laureando magistrale in strategie della comunicazione pubblica e politica e lavoro da alcuni anni in ambito di digitale comunicazione digitale le faccio una domanda sul concetto che aveva accenato prima della fuga dei cervelli secondo lei il nostro tessuto produttivo industriale è in grado di assorbire una forza lavoro di persone altamente formate come quelle che sono e saranno l'attuale e la prossima generazione in Italia e se si e se no ci sarà bisogno nel caso di incentivare fusioni tra piccole e medie imprese che sono diciamo una caratteristica peculiare del nostro paese per far pronte a questo problema grazie grazie ragazzi ho una memoria limitata grazie Matteo Farnese studio giurisprudenza allora nel rapporto tra l'Europa che è una superpotenza gentile e altre superpotenze anche meno gentili diciamo si è installato un clima di controllo e attenzione nel mercato attraverso l'utilizzo del famosissimo golden power che ormai tutti noi conosciamo grazie alla vicenda team e l'Europa sembra muoversi su questo binario nel senso che sia il regolamento 452 del 2019 che la proposta di regolamento sui sussidi esteri sembrano appunto muovere l'Europa in un clima di controllo degli investimenti esteri la mia domanda è quale effetto ha questa politica sulla ripresa economica dell'Eurozona l'Eurozona è un bacino fondamentale di attrazione degli investimenti esteri e come questo può cambiare appunto la situazione Sì grazie a voi così un po' un po' rapidamente Costituzione Europea abbiamo alle spalle diciamo così storie di successi e di fallimenti le più recenti come sapete sono purtroppo recenti ormai sono passati dieci anni ma comunque perché queste modifiche poi vanno sottoposte al consenso dei parlamenti in alcuni paesi referendum ricorderete il referendum francese che bocciò l'ultima proposta della convenzione insomma non è un meccanismo che si studia a tavolino nel palazzo del Berlimont quindi io non escludo nulla nel senso che se si determinano le condizioni politiche sarei ben contento ma suggerirei di andare per passi concreti specifici che rafforzano l'edificio perché un obiettivo troppo generale a mio parere fa fatica a trovare le condizioni per materializzarsi noi abbiamo fatto con questa pandemia dei passi avanti in economia e non ne abbiamo parlato oggi ma sulla sanità perché insomma questo aggeggio che abbiamo in tasca è fatto a Bruxelles la piattaforma di questa roba qui che viene scaricata è stata scaricata da 650 milioni io ho la versione belga che vale moltissimo che è stata scaricata da 650 milioni di persone e vabbè insomma abbiamo fatto grandissimi passi in avanti non approfittando reagendo a una crisi se avessimo fatto un dibattito due anni fa sulla politica sanitaria comune proponendo il common procurement di farmaci o cose di questo genere e vedrete che questo passo avanti fatto per il green certificate ci farà fare dei passi in avanti sull'identità digitale europea che è un'altra cosa molto importante anche sul piano simbolico per i cittadini europei la politica industriale come sapete era un po' un tabù è stata un tabù nell'Unione Europea molto a lungo non lo è più in alcuni campi ci sono miliardi di investimenti in progetti per colmare ritardi uno di questi è i semiconduttori in altri ci sono progetti trasversali la sigla è IPCI a sigla per cui sull'idrogeno verde piuttosto che sui quantum computing ci sono alcuni grandi progetti a cui possono aderire paesi magari spesso aderiscono 7 10 paesi non 27 ma per fare massa critica questo mi porta alla ci sono varie domande che possono essere un po' raggruppate su questo punto questa politica industriale europea questa voglia di essere attore e non solo regolatore che senz'altro c'è in parte per la reazione alla pandemia ma in parte anche per l'evoluzione del contesto globale ci porterà una chiusura lo screening degli investimenti stranieri che abbiamo deciso è una decisione di natura protezionistica l'Unione Europea sta rinunciando al suo modello basato sulla concorrenza e sull'apertura ai mercati naturalmente la risposta è no noi confermiamo consolidiamo il nostro modello di una economia aperta e basata sulla concorrenza che fa dell'economia europea la superpotenza commerciale che è e del mercato unico il mercato più attraente del mondo al tempo stesso dobbiamo combinare questo con l'ambizione geopolitica di cui abbiamo parlato e su cui anche si soffermava una delle domande e con il maggior protagonismo in alcuni settori di frontiera della competitività tecnologica e credo che è chiaro che è un equilibrio non semplice no questa roba si chiama noi la chiamiamo open strategic autonomy che è stupendo perché sembra uno simoro no open strategic autonomy però è quello che è il nostro modello europeo ed è un modello a cui non solo dobbiamo essere affezionati ma un modello di successo straordinario in cui negli Stati Uniti scrivono libri per diciamo decantare le qualità di questo modello che riesce a valorizzare l'apertura la concorrenza e al tempo stesso essere competitivo a livello globale dobbiamo certamente rafforzare i nostri punti deboli perché la pandemia ci ha fatto capire che le catene di produzione possono essere usate come anche arma politica e bisogna evitare ultimo 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 punto quello sulla fuga dei cervelli direi che il mercato del lavoro è oggi una delle grandissime incognite del dopo covid perché in termini assoluti non abbiamo avuto una ondata di disoccupazione neanche lontanamente paragonabile a quella della crisi precedente dove nella media europea quattro anni dopo la crisi la disoccupazione era ancora due punti e mezzo sopra ai livelli del 2008 adesso già ora siamo ai livelli di disoccupazione pre-pandemia nella media europea e in alcuni paesi siamo un po' più indietro tra questi la Spagna e l'Italia ma comunque non con numeri drammatici quello che è molto importante guardare piuttosto è quanto sia aumentato lo squilibrio tra domanda e offerta in molti settori la convivenza in alcuni settori e in alcuni paesi di grandi sacche di disoccupazione che restano in alcuni casi drammatiche sul piano sociale e aree in cui non si riesce a riempire l'offerta di lavoro perché non ci sono i profili necessari non ci sono i numeri sufficienti e il covid come ha cambiato questo chi lo sa in America è più facile in America sapete si parla in questi mesi del del fenomeno della great resignation cioè di milioni di persone che hanno abbandonato il lavoro dopo la pandemia e vabbè io dico in Italia certamente c'è un'offerta di lavoro qualificato molto spesso c'è un'offerta superiore a quanti candidati possono esserci per svolgere quelle mansioni qualificate in alcune parti del territorio quello che manca a mio parere che bisogna rafforzare e su cui il governo sta lavorando anche grazie al PNRR è l'elemento diciamo così di accompagnamento da parte delle politiche del lavoro perché ci illudiamo se pensiamo a un futuro in cui non ci siano trasformazioni le trasformazioni ci saranno saranno a mio parere anche molto positive sia quella ambientale che quella tecnologica ma nel positivo ci saranno anche tanti settori che entreranno in difficoltà o che sono già in difficoltà o che aumenteranno le loro difficoltà e quindi accompagnare formare aumentare la capacità di formazione permanente ecco sono cose di cui abbiamo parlato per decenni ma adesso bisogna fare un salto di qualità nell'attuarle perché altrimenti questa situazione così contraddittoria del mercato del lavoro potrebbe avere delle conseguenze sociali allarmanti grazie veramente grazie di tutto grazie a tutti vi lascio con grazie molto al commissario per il suo tempo vi lascio con una frase di Nino Andreatta che proprio prosegue questa conclusione perché fa riferimento al tempo e alla transizione e pensate del 1984 e fa riferimento ad un articolo che si occupa di digitale e di robotica e dice la storia ci appare nel passato come solida ne comprendiamo in essi di causa ed effetto e in qualche modo vediamo tendenze nel futuro ma è in quel passaggio breve fra il tempo passato e il tempo futuro che è il nostro oggi e mi sembra lo spazio in cui si definiscono e si applicano le politiche questa è una scuola appunto di politiche grazie grazie al commissario e grazie a tutti voi alla prossima grazie mille grazie a tutti grazie a tutti